come mai ma che sarai per fare questo a me notti intere ad aspettarti ad aspettare te volevo fare un saluto al carissimo simone sì 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 io sono luca giurato ovviamente io so tutto e lui si chiama appunto simon archini bravo simon archini continua così è veramente simpatico una cosa veramente incredibile una forza proprio della natura continua così continua evitare continua a farci ridere sul tuo canale di youtube questa notte di venerdì perché non dormi perché non sei qui perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te